Ma quanto è bello l'autunno. I colori autunnali, le foglie che cadono. Questa è la temperatura adatta per stare sotto le coperte, abbracciati con il rumore della pioggia che scende. La pioggia? Si sta piovendo in questo momento. I bannisteri traggiori di Rafa dove scende? Amore? Che bello l'autunno. Sto mal di testa non mi è passato più. Ma amore, per il mal di testa c'è una tisana, camomilla e miele. Guarda qua, guarda che pancia gonfia. Tisana finocchio e dolceva di rape. Non c'ho stimolo. Tisana la prugna e i figli d'India. Grazie. Amore, 150 euro di cassa è arrivato. E' normale, tutto il giorno con questi fornelli accesi. Tisana per il vomito, per il mal di testa. Tisana la quinoa, per il tuo nervosismo. Funziona. Va bene, non esco più. Sì? Li hai presi? Sì, li ho presi. Lo sai che senza non faccio niente? Tranquilla. A tra poco. A dopo. Li hai presi? Sì, li ho presi. Eh? Popcorn e a formaggio. Dai, forza amore. Adesso ci vediamo una bella serie su Netflix. E che cazzo? Io sono quattro ore che mi sticco al capilare e mi sono fatto quattro mille massaggi alla pancia per la sua paura. E fanno parrucchieri cinquanta euro per fare questo cazzo di Shadush e mettere un russetto in questa campagna. E tutti qui mi porti popcorn. Popcorn con due popcorn. Guarda che cazzo ci fa. Ti ho preso la pizza. Vai, c'è la due. E' da domani? La dieta? No, pure lo dolcezzo ti sei dimenticato. Strunz. Ragazzi, condividete il video. E lasciate mi piace alla pagina del video. Condividete? Basta, mamma mia, che ansia.